Più di un giovane su due in Irpini è senza lavoro. I dati sulla disoccupazione sotto gli under 35 sono drammatici. Non c'è domanda, il mercato è fermo e persino i laureati sono costretti a starsene a casa, oppure quando va bene ad accettare lavori che non corrispondono alle loro competenze. Eppure ci sono degli strumenti che le norme prevedono, spesso ignorate da chi è in cerca di prima occupazione. Come trovare uno spazio nella giungla del mercato è stato uno dei temi al centro di un seminario tenuto dal Centro per l'impiego di Avellino in collaborazione con la provincia. Nel corso del convegno sono state illustrate le opportunità e i modi per coglierle. La domanda non è una domanda fortissima, non c'è sviluppo, non c'è chiaramente crescita, però diciamo che le opportunità per i nostri giovani cominciano a esserci, quindi parliamo del progetto NET che è rivolto ai laureati, parleremo del progetto lavoro di sviluppo, quindi tutte opportunità legate a un ingresso nel mercato del lavoro. E poi c'è il contratto dell'apprendistato che ormai è uno dei contratti di inserimento nel mondo del lavoro più favorevole per gli imprenditori. Dobbiamo ridare credibilità alla crescita, credibilità alle nostre azioni e soprattutto credibilità agli imprenditori che sono i soggetti che poi assumono i nostri giovani. Ci sono degli strumenti, ma come devono prepararsi i giovani? I giovani devono prepararsi soprattutto a un'attività scolastica e universitaria molto importante, noi stiamo lavorando anche sulla riduzione della transizione scuola-lavoro o università-lavoro, quindi loro devono prepararsi a entrare nel mondo del lavoro subito durante il periodo scolastico, iscrivendosi ai centri per l'impiego, cogliendo le occasioni che gli vengono date e verificando tutte le opportunità che sono sì quelle là del mercato pubblico attraverso i centri per l'impiego, ma ci sono anche le strutture private, c'è ormai il mercato del lavoro, è un mercato che vede insieme il pubblico e il privato che opera congiuntamente.